è una vera guerriera non ha più timore di nulla si è quello il problema non ce l'hanno fatta così lo ma si ma 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 Quello cercava di fare il furbo in realtà Non scambiare i trucchi per furbizia Non sono che inezie ed espedienti Io e te ci rivedremo perché io sarò pronto e tu pagherai il conto Come? Come? Grazie a tutti. 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 Sei morto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.